Spacchettamento extra anche di Yu-Gi-Oh! Millennium Pack prima edizione abbiamo già fatto lo spacchettamento di tutte le altre bustine ci hanno ovviamente detto che potevamo anche aprire quest'ulteriore pacchetto e noi lo andiamo subito a fare sperando di pullare di avere fortuna beh iniziamo comunque con un bel drago metallico occhi rossi un curibo un drago a 5 teste un xyz cannone drago ribellione va che bella